Buongiorno, sono un amico della coppia, mi chiamo Babadu e sono qui per darvi un po' di informazione per il matrimonio di Sandrine e Antonia. Sandrine, mi piacerebbe fare un glu glu come lei. Allora, come sapete, il matrimonio sarà il 2 di agosto, sì, il sabato il 2 di agosto e per questo allora la chiesa comincerà alle 4 e dopo la festa finirà fino a tardi alla mattina, sì, sì, tardi alla mattina. Non preoccupatevi perché potete bere tutto quello che volete, tutto, 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 perché ci sarà un bus, un bullman che vi prenderà dall'albergo e che dopo alla fine vi riporterà. Potete bere e essere un briache, tutto quello che volete, non preoccupatevi. E dopo, se volete pure, la domenica ci sarà un brunch, un brunch vuol dire che si mangia un po' più tardi. Potete venire che ci sarà la festa, la festa bella bella lì che non è lontano da Firenze. Pensate a prendere pure un costume da bagno perché ci sarà un po' di acqua, sì, sì, un po' di acqua. E allora dopo, per le informazioni dell'albergo. L'albergo, se prendete, ci sarà, ci sarà un albergo che si chiama Best Western Gabriele Danunzio. Questo qua è proprio vicinissimo della chiesa e dove si farà la festa. Se volete questo, ci sono un po' di camere, ma non preoccupatevi, prendete quello che vi fa piacere, perché Firenze non è molto grande. Firenze è piccola, non è come per me in Africa, pensate. Ma allora fate come volete, ma se avete bisogno di informazioni, non preoccupatevi, prendete il telefono o mandate un'email a Antonio e Sandrine e vi risponderanno, vi daranno tutte le informazioni possibili. Io credo che mi hanno detto che hanno veramente voglia di vedervi tutti alla festa, allora sperano di vedervi tutti il secondo di agosto. Vi amano moltissimo, come io, ma molto Sandrine e voilà. Allora, fate come volete e siamo molto gradevoli di vedervi questo giorno. Allora, arrivederci a tutti!